Ciao a tutti, Angeli, benvenuti in un nuovo video. Chi sono io? Sono sempre Charlie, ho solo cambiato il colore di capelli, ma giuro che sono io. Vi dico già che questo video sarà bello lungo, quindi preparate un bel calderone di vinello bianco, di cerveza fresca, quello che volete, insomma, perché qui ce n'è da parlare. In questo video vi parlerò di Chiara Ferragni. Alcuni la definiscono la prima influencer della storia, un po' come Lucy, l'Australopithecus, il suo titolo onorifico, lei ce l'ha. Se non conoscete Chiara Ferragni, ecco, siete nel video giusto, l'imparerete a conoscerla, ma perché sto facendo questo video? Selvaggia Lucarelli, nota giornalista italiana, ha da qualche settimana pubblicato un nuovo libro, ovvero Il vaso di Pandora, dove racconta l'ascesa e la caduta dei Ferragniez. E chi sono io per esimermi dal comprarlo, leggerlo e fare un video su Chiara Ferragni. Chiara è una owner di un brand make-up e quindi ho detto io faccio video su owner di un brand make-up perché non farlo. È tutto logico. Se volete anche vedere un video dove parliamo meglio del libro di Selvaggia, che sto leggendo, non l'ho ancora finito, quindi non vi posso dire nulla, fatemolo sapere che magari preparerò per la prossima settimana un bel video recensione, che può essere un nuovo format ai nostri. Leggo un libro e poi ne parliamo insieme. Quindi, fatti i giusti annunci, direi di iniziare subito con il video di oggi. Sigla! Urge una premessa da fare. Chiara Ferragni è una nota influencer che tutti conosciamo. Da po' in questi anni è stata coinvolta in uno scandalo molto grosso, soprattutto perché va a toccare la beneficenza, ma io voglio chiedervi, come cercherò di fare io, di usare toni gentili ed educati, come siamo abituati a fare in questo canale. Non importa se per qualcuno possano risultare noiosi. La gentilezza e l'educazione sono sempre dei tratti da onorare, non da discriminare. Quindi esprimete, come al solito, le vostre opinioni con un commento qui sotto. Già che ci siete, se siete nuovi, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale, che così cresciamo. E non vedo l'ora di sapere cosa ne pensate su quest'argomento, perché sono certo che avrete delle opinioni forti. Come al solito, troverete i prodotti che sto usando sullo schermo e nell'info box. Se è il Charlie dell'Editing, se lo ricorda, ricordatelo per favore. E quindi a questo punto possiamo effettivamente iniziare. In questo video andremo a rispondere ad alcune domande. Chi è Chiara Ferragni? Com'è Chiara Ferragni? E perché Chiara Ferragni? Queste sono le nostre tre domande, il nostro filrush che terremo al mente per la creazione di questo video. Chiara Ferragni è una modella, influencer, imprenditrice, personaggio televisivo, autrice. Ho fatto anche che Chiara Ferragni ha fatto qualsiasi cosa nello scibilo umano, ma abbiamo una certezza. Chiara Ferragni non ama il Natale. Chiara Ferragni nasce a Cremona il 7 maggio del 1987. È del segno del toro. Questa informazione è utile se siete degli appassionati di astrologia. Nasce da Marco Ferragni, dentista di Cremona, e Marina di Guardo. Marina di Guardo è una donna sicula, nata e cresciuta in Sicilia e fin da piccola esprime il proprio desiderio di diventare una scrittrice. Comunque Marina cresce in una famiglia a vecchio stampo, come dice lei, dove il padre da molte libertà ai fratelli maschi e alle figlie femmine non dà tantissima libertà. Marina, che desidera di meglio nella vita, decide negli ultimi anni di liceo di mollare gli studi e trasferirsi da sola a Cremona. Il rapporto con il padre si interrompe, ma Marina prende questa forte decisione. Trasferitasi a Cremona, Marina fa i lavori più disparati, dalla babysitter alla commessa nei negozi all'indossatrice di moda. Ed è qui che tra un'otturazione e un abito indossato conosce Marco Ferragni. I due si conoscono e scoppia la scintilla e nel 1987 hanno la loro prima figlia, Chiara Ferragni. Vedono fin da subito che Chiara è una delle bambine più belle al mondo e quindi dicono, sai che c'è, evidentemente c'è un ottimo pool genetico, facciamocene altri due. Dopo due anni, infatti, dalla nascita di Chiara, nasce la sorella Francesca Ferragni e, siccome anche la sorella era uscita incredibilmente buona, dopo due anni fanno la terza figlia, Valentina Ferragni. Sappiamo che Chiara Ferragni ha avuto una bella infanzia, è lei stessa a raccontarlo. Dice che dalla madre ha ereditato la passione per la fotografia e la madre, infatti, fin da quando le bambine erano molto piccole, passa il tempo a registrare video e fare foto alle bambine e a creare veri e propri archivi della loro infanzia. Ecco, questo è già uno spoiler sul futuro di Chiara Ferragni e Chiara nasce quindi abituata a stare davanti alla cinepresa, davanti alla fotocamera. Le piace essere fotografata anche se la madre la definisce fin da piccolina un maschiaccio. Comunque, chiara come la bella addormentata cresce in beltà, grazia e gentilezza, abituata alla fotocamera, ma soprattutto con un ego smisurato. Infatti, Chiara stessa dice in varie interviste che grazie alla madre che le ha sempre incoraggiate a fare qualsiasi cosa, forse in risposta a quella stessa educazione rigida che lei aveva ricevuto, incoraggia appunto le figlie e le dice che avrebbero potuto e potranno ottenere qualsiasi cosa nella loro vita. In pratica, queste tre bambine mi crescano leggermente megalomani. Quindi Chiara, Valentina e Francesca crescono con una forte autostima fomentata dalla madre. Chiara nel 2001-2002 ha 14 anni e si deve iscrivere al liceo. Decide di iscriversi al liceo classico, il liceo Manin di Cremona, e in quegli stessi anni i genitori si separano. Chiara a quel punto va a vivere col padre in centro a Cremona per essere più vicina al liceo. Di questi anni sappiamo dei professori di Chiara che non era esattamente la stella della scuola, non era la studentessa più brava. Alcuni professori dicono che era una brava studente, si notava fin da piccola questa sua potente vena creativa, altri invece dicono che praticamente era una scansafatiche e faceva il minimo indispensabile per prendere sette. Chiara, una di noi. Ma se avete l'idea di una Chiara Ferrani, reginetta della scuola, è super popolare, non è esattamente così. Infatti Chiara più volte dice che in questi anni ha ricevuto bullismo da parte dei suoi compagni. Ed è da questo punto in po' che voi non vi potrete più riconoscere in Chiara Ferrani, solo per questa cosa del bullismo. Poi Chiara Ferrani prenderà un'altra strada. A 16 anni Chiara racconta di aver subito del bullismo da parte dei propri compagni, in seguito a un'interrogazione nella quale fece Shenamuta. Tutti i suoi compagni risero di lei, facendola sentire inetta. E Chiara non poteva accettare questa sensazione, proprio in virtù del fatto che la madre l'ha cresciuta, facendola sentire più o meno Wonder Woman. Chiara in questa situazione dimostra già il suo innato carisma e la sua empatia verso le persone. Infatti la sera stessa in cui i compagni l'ha preso in giro, lei prende il telefono, Aladino della Telecom, perché stiamo parlando del 2002-2003, e fa una chiamata a tutti i suoi compagni. Ora, io se fossi stato uno dei suoi compagni gli avrei detto ma sei fuori di testa che mi chiami a quest'ora. Comunque loro rispondono, perché non c'era Whatsapp, quindi sono costretti a rispondere. E Chiara chiede ai suoi compagni ma perché mi hai trattata così? Perché mi hai fatto del male? Era necessario farlo? I loro compagni le rispondono che l'avrebbe fatto anche lei al loro posto. Comunque da questo episodio Chiara in qualche modo si guadagna, guadagna, perlomeno la stima dei propri compagni e da lì non ebbe più grossi problemi. Chiara cresce e verso i 17 anni incontra il suo primo fidanzatino importante, Alberto, o come lo chiameremo noi, il Poro Alberto. Questi sono gli anni in cui nascono i primi social network tra questi netflog. È anche un social che praticamente si usava solo in Lombardia, 2.0. Noi in Sardegna avevamo al massimo due pecore, 0.0. Chiara si mette già su questa piattaforma online con l'astuto nome di Diavoletta87. Io ad esempio ero Darkboy, non ce la faccio. Un giorno farò il video sulle mie di origini. Chiara diventa sempre più popolare in queste piattaforme, in parte perché 2.0 ha un algoritmo che continua a spingere persone che sono già tra i popolari del sito. Chiara, che a questo punto ha già collezionato la sua popolarità, diventa sempre più conosciuta. La stessa cosa su Netflog. Chiara nelle sue pagine racconta della sua vita, dice quello che le succede, esprime i suoi pensieri e come ogni brava persona di questi anni, Chiara usa la cappa al posto delle C. In questi anni è una ragazza profonda che ha molto da dire. Oltre le foto davanti al cesso, Chiara ha tanto da dire. Infatti si lascia a pensieri intrusivi, importanti, a pensieri che comunque sono meritevoli del posto in cui le scatta le foto. In particolare ve ne lascio qualcuno qui. Questo messaggio Chiara esprime il suo amore per la fotografia e dice quanto la fotografia l'abbia aiutata nella vita, quanto lei ami la fotografia, ma soprattutto lei finisce questo messaggio, questo protopost, dicendo che una foto vale più di mille parole. E se Chiara queste parole sono scritte così, hai ragione. Ma non solo, perché infatti Chiara in questi messaggi descrive un'altra situazione che ci servirà. Dice che odia il Natale. In questo periodo le persone sono false. Perché sei falsa, Simona! Cazzo! È la verità! Sei falsa! Ma ci dovrà! E sebbene in teoria si dovrebbero preoccupare del benessere, della felicità altrui, lo fanno solo in questo periodo. Quindi per Chiara ciò è disdicevole. Inoltre Chiara ci dà una lezione biblica ricordandoci che Gesù effettivamente non è nato il 25 dicembre, ma è stato scelto dalla Chiesa. Oltre a essere diavoletto 87, è una teologa. Chiara ha questa fase un po' in cui tra una foto e un post lei si dedica alla teologia. Ma perché vi dico questo? Perché Chiara appunto si diploma! Chiara finisce il suo percorso scolastico, prende la licenza di maturità al liceo classico con 78, ma io so che voi volete sapere qual è stato l'argomento della tesina di Chiara e io ho trovato pure quello. In quel periodo Chiara aveva subito un lutto in famiglia e si era appassionata alle letture dell'Ottocento romantiche, quelle dove si faceva molto spesso riferimento alla vita ultraterrena e ai cimiteri. Chiara si appassiona ai cimiteri. Non c'è modo più delicato di dirlo. E quindi Chiara decide di fare la tesina per il suo esame di maturità, sui cimiteri. Ma Chiara è una visionaria da subito, sa che una tesina sui cimiteri non basta per assicurarsi un bel voto, infatti non lo prende comunque. Però lei decide di fare delle foto, via decide di scattare le stesse alle foto da usare poi nella tesina per essere un po' più professionale, dice lei. E quindi sta cristiana va al cimitero con il practical custode del cimitero che la insegue per chiederle cosa stia facendo, perché vi avviso, se vi può interessare, per fare le foto in un cimitero bisogna chiedere l'autorizzazione. Chiara fa le foto comunque al cimitero, probabilmente glielo lasciano fare grazie al Pretty Privilege, e poi le piazza nella tesina, soprattutto Chiara fa la tesina in inglese. E se vi ho appena spiegato il motivo per il quale lei faccia la tesina sui cimiteri, per l'inglese non c'è un motivo. Lei dice che era brava in inglese, quindi decide di farlo in inglese. E vabbè. Meno male che non era brava in cucina, perché sennò si sarebbe portata dietro il forno elettrico. No, non mi sono dimenticato del Poro Alberto, ora vi spiego anche perché lo chiamiamo Poro Alberto. Chiara è ancora fidanzata con, appunto, il Poro Alberto e, fatta la maturità, decidono di fare un viaggio. Se voi siete stati al liceo, è tradizione fare, consacrare il diploma o la licenza di maturità, come la chiamano al classico, con un viaggio. Tendenzialmente le mete preferite sono la Spagna e la Grecia, perché mete low cost e non tutti si possono permettere di andare in mete esotiche e particolari. Ma non Chiara. Chiara decide di andare a Santo Domingo con il fidanzato a 18 anni. Perché Chiara è una ragazza che osa fin da piccola e niente, decidono di andare a Santo Domingo. E voi vi aspetterete già le foto, a questo punto, sul network di questo magnifico viaggio. Colpo di scena. Chiara non andrà a Santo Domingo. E perché? Perché, in pratica, lei, due giorni prima della partenza, guarda il porro Alberto e gli dice «Sai che c'è Albi? Io non t'amo più». E quindi lei non parte. Chiara è una ragazza, così, che non ha paura di dire quello che pensa, poteva magari resistere qualche giorno, vedere come sarebbe andato a Santo Domingo, però è una ragazza che sa quello che vuole e non ha paura di dirlo. Comunque, Alberto va a Santo Domingo e le dice «Vabbè, gioia, ciao, io vado». E Chiara a questo punto è single. Single è felice di iniziare una nuova vita. Parte per la volta di Milano accompagnata da Filippo Fiora, uno dei suoi migliori amici che tra l'altro gli aveva fatto conoscere il porro Alberto. Chiara chiaramente si iscrive in una facoltà di quarto ordine che non conosce nessuno, giurisprudenza alla Bocconi. Chiara non si laurea in giurisprudenza, anche perché se no avrebbe saputo cosa sia la truffa aggravata. Quindi no, Chiara non si laurea in giurisprudenza, vi do questo spoiler. Chiara impara e conosce persone che le serviranno nel corso della sua vita, persone che in qualche modo contribuiranno a cambiare il corso della vita di Chiara stessa. Tra le varie conoscenze che fa alla Bocconi, lei diventa amica con Veronica Ferraro, che anche lei è una delle hit girl di 2.0. Praticamente Veronica Ferraro è la versione meno carismatica di Cara Ferrani, però non sempre lì siamo. Ma non solo, perché infatti alla Bocconi lei conosce Riccardo Pozzoli, che sarà una persona molto importante nella creazione di Chiara Ferrani come influencer. Dovete capire che, sebbene anche la madre di Chiara sia appassionata di fotografia, dopo 40 anni che sta facendo le foto alle figlie e che Chiara ha praticamente seccato il lobo sinistro, il lobo destro alle persone andando in giro a chiedersi foto e non ne può più di farsi le foto da sola in bagno, trova Riccardo. Riccardo, anche lui, è appassionato di fotografia. Ha chiaramente una macchinetta fotografica professionale, cosa che nel 2000 penso fosse l'apice proprio della ricchezza. Cioè, se tu avevi una macchina professionale in quegli anni, eri avanti, ma anni luce. E quindi Riccardo inizia a fare le foto a Chiara. Chiara in questi anni, anche grazie ai video che esistono online, la possiamo vedere e la possiamo conoscere. Non è la persona che abbiamo conosciuto noi. È spontanea, è genuina. Non ha paura di prendersi in giro. Certo, rimane comunque cresciuta in un ambiente buono, quindi non è esattamente la ragazza più porta a porta del mondo. Però, comunque, è una ragazza genuina, una ragazza della sua età. E in questi anni, oltre a pubblicare su Netlog, Chiara decide di postare anche su Flickr. Flickr, se non lo conoscete, è un social in cui pubblicavano fotografi professionisti. In pratica, se voi aveste cercato su Flickr in quegli anni, avreste trovato da una parte una foto scattata in un safari dopo sette ore di appostamento con un'attrezzatura da settemila euro, e poi dopo avreste trovato la foto della Ferragni in bagno. La community di fotografi professionisti non penso fosse felice di beccarsi la Ferragni, però se la beccano in qualche modo. E Riccardo capisce che Chiara sembra avere talento in questo nuovo ambito che sta nascendo. Sono gli anni, infatti, in cui vanno creandosi i blog. Nasce il blog di Cleo Makeup, di Aranzulla, di Selvaggia Lucarelli, che da questo momento in poi giurerà vendetta e odio verso Chiara Ferragni. Selvaggia Lucarelli, tenete la mente che ci servirà più volte in questo video, oltre ad aver scritto il libro che capite già che non è che ci sia tanta simpatia. Quindi Riccardo decide di investire su Chiara. Spendono 10 euro e comprano il dominio per un sito web. Ed è qui che nasce The Blonde Salad. Ciao, insomma io, scusate l'interruzione. Sto editando e mi sono accorto che non ho sottolineato un particolare. Il sito si chiama The Blonde Salad perché Chiara lo definisce un'insalata di sé che è bionda. Ora che vi ho specificato questa cosa mi sento meglio come me stesso e capite già a livello l'altezza di questo blog. The Blonde Salad è il blog di Chiara Ferragni. Chiara in questo blog praticamente scrive sempre delle sue giornate, sempre con la K, non temete, e posta i video dei suoi look. Insomma, inizia a essere la proto-influencer che conosceremo più avanti. Chiara si occupa già di fashion e da subito si capisce la sua passione verso questo mondo. Leggings perché li uso sempre sono la cosa più comoda da usare in ogni momento. Ed è qui che Riccardo ha l'intuizione geniale come trasformare questo vlog in un lavoro. Possiamo dire che è questo il momento in cui effettivamente nasca l'influencing. Come funziona nel blog? Si guadagna in base agli annunci e alle pubblicità che ci sono nel sito e in base alle visualizzazioni che si fanno sul sito quindi che vedono le pubblicità pubblicità quelle che noi tendenzialmente cerchiamo di non guardare come quelle che ci dicono che potremmo avere una malattia oppure che signor Anna di 57 anni vive a 10 metri da casa nostra e vorrebbe conoscerci. Noi cerchiamo di evitarle quelle pubblicità però invece sono la fonte di reddito dei blog. Un po' come avviene su YouTube più guardate un video più visualizzate più un video viene visualizzato e vedete le pubblicità più il content creator guadagna come nel mio caso si può permettere a fine mese di pagare le bollette ma diciamo che gli ingressi sono pochi fatti semplicemente dalle pubblicità generate sul sito Riccardo sa che questo può essere un lavoro Riccardo secondo me è mollo Riccardo secondo me è un personaggio bello visionario che aveva avuto la capacità di intravedere un nuovo lavoro in un momento in cui effettivamente quel lavoro ancora non esisteva e io faccio un plauso alle persone e anche a Chiara chiaramente che hanno questa capacità probabilmente perché non avremmo avuto il mondo dell'influencing come quello di oggi se non ci fossero state figure come Chiara Ferragni del resto e iniziano ad arrivare i brand che chiedono dei contenuti in cambio di retribuzione al sito del Blonde Salad a Riccardo non sembra vero che finalmente questo lavoro inizia a generare soldi i brand iniziano a capire che è più vantaggioso affidare campagne di pubblicità di nuovi lanci a una persona con un vasto seguito come è poi diventato il lavoro dell'influencing in questo caso si parla ancora di un proto-influencing se vogliamo piuttosto che mettere il cartellone sulla nomentana e sperare che qualcuno che veda quel cartellone sia più interessato al prodotto che non ha la modella e poi vada effettivamente a comprare il negozio capisce che tendenzialmente se una persona è seguita per i propri contenuti la community che si va a formare di quella persona potrebbe essere spinta a fare un acquisto se quella persona sponsorizza il prodotto comunque la fama ormai di Chiara Ferrani sembra in asce lei sembra destinata a diventare leggenda perché il suo blog diventa sempre sempre più popolare fino a che nel 2010 Team Vogue America la incorona come la blogger più interessante da seguire che è un award bello importante per l'epoca soprattutto perché viene dall'Italia non è una non è una blogger americana comunque Chiara comunque Chiara si fa notare sempre di più nel panorama internazionale in particolare nel mondo della moda infatti Chiara in questi anni 2010-2011 fa la sua prima capsule collection di calzature se non sapete cos'è una capsule collection è una collezione edizione limitata di un bene in questo caso Chiara fa delle calzature dal dubbio gusto ed è qui che vi do un tassello importante per capire Chiara e il suo personaggio gli aggettivi che rappresentano meglio Chiara Ferrani sono rosa e glitter quando c'è una fusione di grosa e glitter Chiara Ferrani si manifesta questa è una legge della fisica dopo questa delicatissima capsule collection Chiara registra il suo brand ovvero Chiara Ferrani brand notiamo ancora una volta come il leggero ego creato dalla madre ritorni tant'è che lei chiama il suo brand col suo nome mossa da regina o mossa improbabile sta a voi decidere io penso che capiate cosa ne penso oltre ad aprire il suo brand nel 2013 2014 fa una collaborazione con Steve Madden Steve Madden è un brand di calzature a quanto pare Chiara ha un leggero fetish per le calzature però questa collaborazione in realtà non è fatta con Chiara Ferrani ma è fatta con The Blonde Salad non dimentichiamoci che esiste ancora il suo sito ma come vi ho detto chi è che si occupa di questo brand perché è importante Chiara Ferrani chiaramente è una parte fondamentale ha il 50% delle azioni della società ma il 45% lo ha Riccardo Pozzoli tenete a mente questa cosa che ci servirà più avanti è infatti nel 2014 che la storia d'amore con Riccardo finisce Chiara ormai è divisa tra l'Italia e gli Stati Uniti nei quali va sempre per lavoro e la storia amorosa d'affetti intenti finisce questo vuol dire che il loro rapporto lavorativo si interrompe no i due continuano a essere in un partneriato scusate io questa parola la devo dire perché me l'ha scritta l'altro giorno un brand mi ha scritto proposta di partneriato io sono dall'altro giorno che penso che esista questa parola quindi in qualche modo lo devo comunicare a qualcuno e siete capitati voi continuano appunto la loro collaborazione lavorativa che sembra andare avanti ma ora Chiara è single è felice è lì che dice sai che c'è io mi trasferisco definitivamente negli Stati Uniti ed è così che si compra a casa a Los Angeles finalmente il suo i guys ha senso di esistere lei è ufficialmente una blogger americana però Chiara adesso ha un problema perché le persone sono ancora sature dal andare in giro a fare foto a Chiara lei non può farsi più le foto da sola perché ormai c'ha un certo oh così una certa impronta una certa figura una certa nomea da rispettare e quindi dice ma che faccio ed è così che si fidanza l'altra volta e stavolta però Chiara punta bene dritto al soldo e si fidanza con un fotografo lei nel 2015 inizia la relazione con Andrew Arthur è un fotografo americano e iniziano appunto questa relazione dove lui passa il tempo a fotografarla lei si fa fotografare e sembra la relazione perfetta per tutti Chiara a questo punto che si è conosciuta nel mondo del fashion però ancora non è tanto calcolata riceve finalmente l'accesso all'Olimpo le danno proprio le chiave le dicono tu sei una di noi infatti perché in questi anni Calvin Klein la invita come suo ospite al Met Gala il Met Gala è un evento di beneficenza che si tiene tendenzialmente la prima domenica di maggio è un evento benefico per il quale ci vogliono circa 75.000 euro 75.000 dollari per partecipare ed è appunto volto a sostenere il Met Museum di New York questo evento di beneficenza è diretto da Vogue è uno degli eventi di moda più importanti dell'anno e c'è questa gara il vestito più a tema quest'anno l'abito che ha fatto più di scooter è stato un abito fatto di sabbia o perlomeno che sembrava sabbia e io ho le mie opinioni ma voglio sapere sempre le vostre a questo punto possiamo dire ufficialmente che è entrata nel mondo fashion ed è un nome che non passa più inosservato è chiara in questo è chiara in questo anno tra il 2014 e il 2015 segna un altro gol infatti Forbes che è una rivista importante non è il quotidiano di Crescenzago la inserisce tra i 30 under 30 che hanno dato un'impronta significativa nel campo della moda però diventa una materia di studi ad Harvard ad Harvard si mettono a studiare il fenomeno Chiara Ferran il fenomeno The Blonde Salad come lei sia riuscita stia riuscendo a costruire un impero partendo da Cremona il senso di questo corso è questo ma io so che voi non avete gli occhi pigri state anelando state aspettando la sua relazione più importante vi chiedete quando come perché infatti Chiara si molla con Andrew la relazione finisce anche Andrew si è stufato di andare in giro e fare foto a Chiara e in questo periodo Fedez fa una canzone Fedez se non lo conoscete è un rapper barra imprenditore italiano e fa una canzone in cui dice il cane di Chiara Ferragni al proprio di Vuitton una rima baciata che Dante e Foscolo si stanno ancora rivoltando nella tomba ma a noi va bene così e tutto il mondo lì si blocca dice oddio ha nominato la Suprema cosa succederà mai Chiara ora la denuncerà Chiara ora non si sa cosa farà impazzirà Chiara non gliene frega nulla anzi ci rida e so si fa pure i video mentre ascolta la canzone di Fedez Chiara in questo momento è autoironica i due si conoscono nel 2015 2016 con i rispettivi ex fidanzati Chiara è accompagnata dall'ex Riccardo Pozzoli e Fedez è accompagnato da Giulia Valentina la sua ex fidanzata dopo un anno nel 2016 Fedez e Chiara Ferrani vengono beccati a cena insieme ci sono candele l'atmosfera sembra romantica Chiara dice che Fedez gli va delle vibe rilassate non sappiamo minimamente cosa voglia dire dare delle vibe rilassate ma questo ci dice Chiara e non ci fidiamo di Chiara è fatta i due si fidanzano due persone che sembravano non essere minimamente compatibili perché una la principessina cremonese votata a rosa il glitter si fidanza con il rapper di Rozzano dedito ai tatuaggi e ai piercing vestito da skater boy come in una delle migliori canzoni di Avril Lavigne ma la storia funziona i due si mettono insieme e noi siamo in un brodo di giungiole non vediamo l'ora che pubblicano foto e storie siamo lì ad aspettare che ci facciano sapere della loro vita questa vita che è divisa tra Milangeles e Losango come dico io sanno che a un certo punto dovranno prendere una decisione su dove vivere e dicono beh a Los Angeles ci sono già Kim Kardashian e Kanye quindi noi qui non possiamo dominare ma a Milano non c'è ancora nessuno scelta geniale ed è così che durante il concerto nel 2017 a Verona all'arena di Verona si corona il sogno Fedez modifica una delle sue canzoni si mette in ginocchio e chiede a Chiara Ferragni di sposarsi e tutti in quel momento siamo impazziti il mondo si è bloccato noi eravamo lì pronti ad aguardare magari a voi non ve ne fregavano nulla ma io ero lì ero lì col cellulare dicendo oddio cosa sta succedendo e niente si fidanzano dopo poco scopriamo che Chiara Ferragni è incinta di Fedez sta aspettando un figlio con Fedez oppure no 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 è di Fedez scherzavo l'anno dopo nasce il primo figlio della coppia Leone Lucia Ferragni noi ci sentiamo subito degli zii per questo bambino anche perché siamo partecipi di ogni momento della giornata di questo bambino sappiamo quante volte dorme quante volte fa la pappa se preferisce il latte materno oppure quello sappiamo tutto noi di questo bambino e ci sentiamo parte della vita di questo bambino tant'è che siamo gli zii noi noi lo vediamo più dei nonni questo bambino Chiara non si perde d'animo e inizia a programmare il matrimonio questo matrimonio che praticamente genera più introiti e vendite e curiosità mediatica di un matrimonio della royal family inglese tutti eravamo lì che volevamo sapere di questo matrimonio volevamo sapere di più volevamo essere invitati anche noi in qualche modo e Chiara ci soddisfa perché Chiara fa chiaramente tutto ripreso il matrimonio è molto spontaneo ci sono i video infatti delle prove alle nozze dove praticamente Chiara sta frustando Fedez alla prima parola sbagliata che dice e infatti da questi video si nota già una prima differenza rispetto alla Chiara di netlog dell'inizio Chiara non è più genuina non è più spontanea tutte le sue scelte seguono un copione preciso Chiara in questo momento vediamo sempre di più che diventa il brand e meno la persona paradossalmente questo questo cambiamento di Chiara coincide proprio nel momento in cui lei fa entrare sempre di più le persone nella propria vita infatti come vi ho detto noi siamo partecipi di ogni attimo della vita di Chiara Ferragni e Fedez sappiamo tutto anche dei riflessi intestinali di Fedez e del bambino il matrimonio si ipotizza abbia un valore di 20 milioni di euro e a me che già l'idea di spenderne 20 mila per un matrimonio sembra eccessivo però l'oro penso che l'oro in realtà abbiano tirato fuori praticamente 500 euro un giro allo di sushi dietro casa mia i vestiti Chiara erano firmati Dior chiaramente non li ha pagati Alitalia ha messo letteralmente un aereo di linea per portare gli invitati in Sicilia dove si sarebbe tenuto il matrimonio chiaramente non li ha pagati e in questo aereo di linea non è che c'erano le patatine San Carlo che ci davano che ci dava all'epoca San Carlo ora sugli aerei all'Italia manco quello non c'è neanche più all'Italia se è per quello forse è stato il matrimonio di Chiara Ferragna distruggere completamente all'Italia teoria del complotto ad accogliere gli invitati per il volo ci sono due copie gigantesche di Chiara e Federico chiaramente non li ha pagati segnatevi questa cosa della bambola perché ci servirà più avanti e sul volo vengono offerte patatine sprinkles ogni ben ogni ben di dio chiaramente non li ha pagati qui infatti che nasce il fenomeno dei De Ferragna e chi sono non mi sono inventato questa parola in pratica i De Ferragna sono è la coppia appunto Chiara Ferragni e Fedez perché negli Stati Uniti ci saranno stati Kim e la coppia Kim Kardashian e Kanye West noi abbiamo i De Ferragna questa crasi che in qualche modo avrebbe modificato i sistemi geopolitici loro che avrebbero in qualche modo modificato state continuando a bere perché qui è ancora lunga sappiatelo il matrimonio comunque va bene tutti eravamo lì a guardarlo e quando dico tutti intendo letteralmente tutti Chiara Ferragni e Fedez in maniera umile e delicata hanno fatto vedere gli analytics delle loro stories facendo vedere che il loro matrimonio ha raggiunto una copertura mediatica di mezzo miliardo di persone in pratica tutta l'Europa si è messa a guardare il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez ma anche il 2018 quando l'unico nostro pensiero era il matrimonio di Chiara Ferragni e Fedez ma se il 2018 è stato un anno di vittoria ancora una volta per la nostra Chiara che sembra che non ne abbia sbagliata una praticamente dal 2002 da quella chiamata che faceva i suoi compagni di classe fino ad oggi in realtà non è tutt'oro quel che lucica infatti Chiara subisce un tradimento vi ho detto che la figura di Riccardo è importante per Chiara ma a un certo punto non si sa come non si sa perché Riccardo si stacca totalmente da Chiara Ferragni che vende a Pasquale Morgese colui che fabbrica fabbricava le calzature di Chiara Ferragni le vende le proprie quote senza avvisare Chiara lo fa dal giorno alla notte e Chiara dice sai che c'è a me questa cosa non sta bene come ti sei permesso a vendere le quote della mia società a un altro quindi sapete cosa fa Chiara che evidentemente ha due spicci che le avanzano ricompra le azioni Chiara Ferragni a questo punto è amministratrice delegata di praticamente tutto il mondo lei è imperatrice suprema alcuni stanno già pensando di chiamarla Chiara la grande 200 agenzie sotto il macrocosmo di Chiara Ferragni brand c'è Fenice SRL c'è Sisterhood e c'è TBS Crew che vuol dire The Blonde Salad è sempre quello il nome fossimo in un film la storia finirebbe qua con quel bacio scambiatosi sull'altare in Sicilia un sì che suggella il loro amore con un figlio e le loro due potenti carriere hanno tutto in questo momento ma sappiamo benissimo che la vita non è un film anche se il 2020 ci ha messo a dura prova e ci ha fatto credere di star vivendo in Io sono una leggenda e visto che abbiamo proprio citato il 2020 parliamone Chiara Ferragni e Fedez diventano effettivamente la nostra royal family tutti vogliamo sapere che cosa fanno e loro sono ben felici di mostrarci ogni secondo che cosa stanno facendo e tra varie critiche e varie drama come il caso del Carrefour del 2018 dove Chiara organizzò la festa di compleanno di Fedez nel Carrefour Market dei City Life e furono aspramente criticati perché si misero a giocare con gli invitati e Fedez si misero a giocare con il cibo si misero ad aprire barattoli di cibo vendibile che chiaramente una volta aperto non può più essere rivenduto per ovvi motivi cercano di tenere subito a botta e infatti escono dei video riccati dove si legge chiaramente dal labiale di Fedez che dice beh cosa facciamo ora diciamo che questo cibo lo daremo in beneficenza tenete a mente anche questo perché questa sarà una un'ora fuori dalla mia finestra tenete a mente questa tattica perché servirà più avanti e noteremo che Chiara la usa più spesso come vi stavo dicendo il 2020 è un anno difficile per tutti scoppia la pandemia e il mondo sembra letteralmente arrestarsi non ci sono più certezze non si sa più cosa fare e ancora una volta i Ferranjez si ergo al buio delle notti e vanno a salvare la giornata fanno delle raccolte fondi per finanziare i letti per l'emergenza covid e per questo loro merito vengono insigniti dell'ambrogino d'oro l'ambrogino d'oro no non è un cameriere che vi serve 24 ore su 24 è un titolo onorifico che dà la città di Milano ai milanesi che si sono distinti per beni e servizi offerti alla città e tutti esultiamo per questo perché effettivamente l'azione che hanno fatto Chiara e Fedez è davvero meritevole di plauso sapete dove voglio arrivare con tutto questo preambolo vero? al Pandoro Gate ma frenate i vostri bollenti spiriti perché non è ancora il momento di parlare del Pandoro Gate infatti dobbiamo un attimo parlare del suo brand makeup e in generale del rapporto di Chiara con il makeup Chiara essendo abituata a farsi fotografare praticamente da quando era nella pancia della madre sa benissimo quanto il makeup possa aiutare nelle foto non lo capiva prima come non lo capivamo tutti noi negli anni 2000 però lo capisce più avanti e Chiara ha fatto anche delle collaborazioni molto importanti a livello di makeup la prima con Lancome Chiara infatti nel 2018 lancia una collezione con Lancome una capsule collection dove fa uscire una palette delicatissima in resina rosa glitterata con gli occhioni simbolo del brand di Chiara Ferragni dentro era un po' vecchio stile con una parte ombretti e una parte rossetti in crema di dubbio gusto sì però la fa uscire questa palette è particolare perché è una di quelle palette che può essere utilizzata solo da chi è Chiara Ferragni cosa intendo che se non avete i colori di Chiara Ferragni o non siete bionde con gli occhi azzurri fate un fatturato hanno di almeno 780.000 euro tenendoci a ribasso non la potete usare quindi dimenticatevi di usarla non è per voi se invece siete molto fan di Chiara e volete essere come lei la potete usare in questa collezione oltre la delicatissima pret ci sono anche dei rossetti in bullet e il mascara non formulati da non formulati da Chiara sono sono dei rossetti in gamma permanente di Lancome ma con il delicatissimo pack scelto da Chiara quindi anche i rossetti in mascara hanno questo delicatissimo pack rosa resinato glitterato una delizia per gli occhi supponiamo che la collaborazione sia andata bene perché l'anno dopo Chiara e Lancome si riuniscono e lanciano una seconda capsule collection sempre firmata da Chiara Ferragni ma stavolta con un pack glitterato blu perché Chiara Ferragni è binaria o è rosa o è blu anche questo un pack delicatissimo anche questa collezione con dei rossetti che sono in gamma permanente ma per l'occasione si sono rivestiti hanno fatto lei guys outfit of the day con il completo blu glitterato questa palette è meno limitante rispetto a quella di a quella dell'anno prima infatti nella palette non ci sono più i rossetti in crema perlomeno ma ci sono da una parte polveri viso e dall'altra ombretti compresi degli ombretti glitterati ma se pensate che stavolta Chiara abbia deciso di essere più inclusiva e ammettere persone anche che non fossero come lei sbagliate anche stavolta la palette è utilizzabile solo se siete Chiara Ferragni avete i suoi colori e avete sempre lo stesso fatturato almeno che non sia sceso il fatturato in quel caso non la potete comunque prendere io questo esperimento di Chiara con Lancome lo definirei un po' un un pilot per vedere quanto le persone fossero effettivamente eccitate all'idea del make up associato a Chiara Ferragni perché poi Chiara Ferragni esce la notizia che nessuno si aspettava Chiara Ferragni lancia il suo brand make up è un brand che va da subito molto bene anche solo per il fatto che tutti vogliono essere Chiara Ferragni del resto Chiara ha costruito tutto il suo impero basandosi sul fatto di essere l'amica raggiungibile da tutti portandoci nella sua vita di tutti i giorni e ancora una volta quello si dimostra essere il tratto vincente di Chiara Ferragni infatti come vi dicevo i prodotti vanno da subito molto bene nella prima collezione c'erano una palette sempre dedicata a livello di packaging rosa glitterata stavolta in cartone perché la resina costa troppo insieme a un blush luminoso che è uno di quei blush tipici che se non avete imperfezioni con quel blush le avrete perché vi mette in risalto qualsiasi tipo di imperfezione grazie alle sue perle io odio quei blush ma ma non penso che il brand di Chiara Ferragni sia un brand nato per me nella collezione ci sono anche dei prodotti per le labbra come rossetti e lip gloss io ho provato i prodotti del suo brand non hanno una qualità tremenda ma neanche una qualità eccezionale rivoluzionaria per quanto mi riguarda è un brand come tanti vi dico la verità non è un brand che vi ripeto parla a me sia a livello di texture sia a livello di qualità sia a livello di qualsiasi cosa parla chiaramente a chi vuole l'estetica di Chiara Ferragni a chi è suo fan a chi non ama tanto il make up ma ama il make up di Chiara Ferragni o il make up di Manuele Mameli il suo make up artist che secondo me tra l'altro è dietro un po' il brand make up di Chiara Ferragni ma questa è una mia opinione non è surrogata da fatti il brand di Chiara Ferragni è un brand cruelty free ovviamente essendo un brand italiano è sotto le leggi europee che obbligano i brand a non testare sugli animali non è rivenduto in paesi dove è richiesto il test sugli animali questo ci fa molto piacere non è un brand vegan non ha prodotti totalmente vegani a proposito vi lascio ancora una volta qui una lista degli ingredienti che dovete ricercare per capire se un prodotto sia vegano o meno se ci sono questi ingredienti il prodotto non è vegano così se vi può servire io ve la lascio sempre la cosa notevole che ha fatto Chiara Ferragni ecco il secondo lancio del suo brand dove nella campagna pubblicitaria mette sia una persona dalla pelle più scura sia una drag queen secondo me quella è stata una scelta furba e intelligente da parte di Chiara perché da una parte Chiara è sempre stata un personaggio molto lontano dalla realtà no irraggiungibile per la sua vita di lusso e tutto quello che ne consegue invece mettendo due persone mettendo due persone diverse molto diverse lontane da quella che è l'estetica Chiara Ferragni quindi una donna dalla pelle scura quindi molto lontana dal biondo occhi chiari che è Chiara sia mettendo una drag queen quindi una persona molto lontana dall'estetica pulita clean di Chiara riesce in qualche modo ad acchiappare una fetta più grande di mercato brava Chiara la tua strategia di marketing qui è stata pazzesca meno pazzesca per quello che vi sto per raccontare ed eccoci arrivati alla ciccia grossa quella che so che stavate aspettando come si aspetta il Natale tranne se siete Chiara Ferragni come vi dicevo Chiara Ferragni e Fedez non sono mai stati estranei ad attività benefiche volte appunto o alla raccolta fondi o comunque alla donazione di soldi per appunto per varie campagne negli anni alcune di queste sono state le uova di Pasqua con dolci preziosi una bambola realizzata in collaborazione tra Chiara Ferragni e Trudi che rappresentava Chiara Ferragni praticamente la stessa del matrimonio dei Ferragni però in versione mini e con un vestito boh terribile però comunque una bambola della Trudi e tutte queste attività erano a sfondo benefico o così dicono e di questo ne parleremo fra poco ma parliamo del caso che ha davvero svelato i misteri dietro queste attività benefiche di Chiara Ferragni queste attività commerciali cosa succede nel 2023 Chiara Ferragni pubblica un post a novembre dicendo che sarebbero usciti da lì a poco i suoi pandori la gente rimane sconvolta e dice ma in che senso i pandori di Chiara Ferragni perché si Chiara Ferragni aveva fatto una collaborazione con il brand Balocco Balocco è un brand di produzione italiana che produce dolciumi in particolare il pandoro è un pandoro low cost che viene rivenduto da tutte le parti accessibile per più tasche costa 3 euro generalmente un pandoro Balocco e Chiara Ferragni fa una collaborazione con loro e dice che la vendita di questo panettone sarebbe andata a sostegno della ricerca e per comprare di macchinari volti alla cura di malattie come osteosarcoma e il sarcoma di Ewing che sono delle malattie terribili sono dei tumori ossei che colpiscono in particolare la popolazione giovane i ragazzi giovani e i bambini e quindi era un bell'atto mostrare e donare dei soldi per la ricerca e l'acquisto di macchinari per questi presso un ospedale torinese tutti eravamo già abituati a queste attività commerciali ma a sfondo benefico di Chiara quindi nessuno lì per lì si è stupito lei ha fatto poi anche delle storie dove lei appunto continua a dire che queste erano che il ricavato o comunque le vendite di questo pandoro sarebbero andate alla ricerca come vi ho detto poc'anzi ma il diavolo fa le pentole ma non i coperchi e cosa voglio dire con questa frase da cui sono stato aiutato dal mio pubblico perché non me la ricordavo a questo punto torna in campo un personaggio che vi ho già citato all'inizio di questo video che sembra essere iniziato 20 anni fa o perlomeno per me Selvaggia Lucarelli Selvaggia Lucarelli come vi ho detto non ha mai avuto una grande stima una grande simpatia nei confronti della nostra Ferri della nostra Ferri nazionale e subito quando Chiara Ferrani fa questo post nota un particolare c'è l'hashtag ADV cos'è l'hashtag ADV per voi per chi non sa magari come funziona l'influencer marketing i content creator e l'influencer quando fanno dei contenuti a pagamento che includono delle promozioni a pagamento sono costretti per legge a divulgare a divulgarlo in modo da rendere noti ai consumatori che quel prodotto è pubblicizzato dal content creator questo per una situazione di massima trasparenza così appunto che il consumatore sappia che l'influencer ha ricevuto una somma di denaro per parlare di quel prodotto quindi potrebbe o meno essere in qualche modo avere un'impressione o comunque parlare in maniera falsata di quel prodotto e per legge appunto o si deve dire in maniera esplicita che quel contenuto è pagato oppure devi mettere l'hashtag ADV che vuol dire advertisement che vuol dire pubblicità e in tedesco se vi serve si dice verbung così se vi va a saperlo in tedesco ora sapete una cosa in più Selvaggia Lucarelli che è astuta e non si fa e non si fa sfuggire nulla nota subito l'hashtag ADV e dice ma come mai stai pubblicando un post in ADV e Selvaggia non perde tempo la cosa le puzza non capisce e inizia a fare le telefonate chiama prima la balocco chiede all'ufficio stampa della balocco delle delucidazioni per quanto riguarda la collaborazione tra Chiara Ferragni e balocco appunto ora chiaramente Selvaggia Lucarelli danno le informazioni perché è una giornalista di certo non le vengono a dare a me e a voi però Selvaggia Lucarelli le danno anche perché Selvaggia penso abbia il potere di far parlare le persone anche non volenti l'ufficio stampa della balocco parla appunto della collaborazione con Chiara Ferragni ma a un certo punto si fa sfuggire per errore che le vendite del prodotto del Pandoro in questo caso non sarebbero state donate per la ricerca anzi che il che Balocco voleva già donare indipendentemente da questa collaborazione di soldi per la ricerca di queste per la ricerca contro queste malattie a quel punto Selvaggia probabilmente non sembrerà vero ma lo saprò meglio finendo di leggere il suo libro e comunque inizia davvero la sua inchiesta a quel punto si incattivisce e vuole sapere di più dovete calcolare che il 2022 per Balocco è stato un anno difficile ha perso due persone che sono state importanti nella storia dell'azienda ha perso prima il figlio del fondatore che è stato anche lui amministratore delegato della Balocco e poi ha perso l'amministratore delegato in persona ovvero il nipote del fondatore a causa di un tragico incidente a prendere in mano le redini dell'azienda è la sorella Alessandra Balocco comunque Selvaggia a questo punto l'unica cosa che può fare dopo aver saputo questa notizia succolenta è chiamare direttamente l'ufficio stampa dell'ospedale e avere più informazioni anche da loro parla con uno parla con un dottore dell'ufficio stampa dell'ospedale e dice che lui non ne sapeva più di tanto perché non aveva curato lui l'operazione Balocco quindi lui dice che appunto sa che la vendita di Pandori sarebbe andata a sostegno o per la ricerca per l'acquisto dei macchinari e per la ricerca a quel punto Selvaggia lo informa che non è esattamente così e lui ripete che non ne sa più di tanto che non si era occupato lui dell'operazione ma che se n'era occupata un'altra dottoressa della facility sa della struttura a quel punto Selvaggia si fa passare al telefono la dottoressa Franca Fagioli che si voleva fare i fagioli suoi ma non le è stato permesso da Selvaggia e Selvaggia appunto chiede informazioni delucidazioni e la dottoressa la dottoressa le ripete quello che aveva già detto il suo collega che sapeva che la vendita di Pandori sarebbe andata a sostegno a quel punto Selvaggia le informa che non era così e la conversazione comunque finisce in maniera brusca Selvaggia ha tutto quello che le serve per scrivere un articolo infatti nel dicembre del 2023 Selvaggia pubblicherà un articolo dicendo che quello del Pandoro di Chiara Ferragni e della Balocco fosse semplicemente una mossa di marketing e non un'operazione benefica l'inchiesta l'articolo non solleva subito gli animi delle persone non tutti subito si mettono all'inquisizione di Chiara Ferragni ma qualcosa si muove infatti Chiara non risponde pubblicamente alle accuse Selvaggia probabilmente era certa che Chiara avrebbe risposto perché quelle che fa Selvaggia sono accuse gravi mettono in dubbio la buona fede di Chiara Ferragni però Chiara non risponde Selvaggia nota che quando le persone sotto il post sotto il post di Chiara chiedono informazioni sul sul pandoro i commenti spariscono quindi Selvaggia inizia a farsi due domande e l'unica cosa che può fare Selvaggia è creare account fake perché è l'unica cosa la prima cosa che ti viene in mente crea degli account fake in uno fa i complimenti a Chiara Ferragni nell'altra nomina Balocco con un terzo account fake a quel punto si accorge che il commento edulcorante è rimasto mentre il commento che nominava la Balocco non c'è più su Instagram c'è la possibilità di filtrare delle parole in modo che non appaiano e la particolarità di questa opzione è che la persona che ha messo il commento non sa che il commento è stato nascosto la persona continua a percepirlo però gli altri non lo vedono quindi Chiara come vi ho detto non risponde alle accuse che le sono state mosse da Selvaggia l'unica cosa che fa Chiara è postare un'altra dv qualche giorno dopo pubblica una dv con Intimissimi nel quale si mostra in lingerie e riceve forti critiche sul fisico questo spinge Chiara a fare una delle sue manovre tattiche ovvero quella di rendersi vittima e in questo modo spostare l'attenzione dal caso Balocco alle accuse che le hanno fatto al cyberbullismo che le hanno mosso calcolate che è un periodo fortunato è difficile anche per i Ferranjez sono appena usciti dalla malattia di Fedez Fedez ha appena lanciato un nuovo disco è giudice di X Factor ha appena lanciato LOL mentre Chiara si sta preparando alla conduzione alla co-conduzione di Sanremo 2023 quindi tutto deve andare in maniera perfetta non c'è tempo per le critiche arriva gennaio 2023 il caso Balocco tace per il momento e Chiara con abile mossa annuncia una conferenza stampa con dei giornali selezionatissimi in questa conferenza lei non nomina mai il caso Balocco ma anzi dice che tutto il suo cachet di Sanremo che si ipotizza essere più o meno di 150.000 euro andrà a questa associazione contro la violenza sulle donne da parte degli uomini chiaramente questo indossando una maglietta Girls Supporting Girls del suo brand perché il marketing prima di tutto Chiara comunque dice che ha già donato la cifra dopo l'articolo di Selvaggia Luccarelli l'ospedale ritratta quello che va detto a Selvaggia dicendo che le era già stata donata una cifra a maggio del 2023 ma comunque il caso non esplode e Selvaggia si ritira in letargo non è riuscita ad affondare il morso sulla preda Chiara Ferragni è scampata e si mostra sul palco dell'Ariston con la scritta pensati libera questo dettaglio è importante perché creerà dei meme a giugno dello stesso anno viene resa pubblica una nota per la quale l'Agicom ha iniziato un'inchiesta per il caso Balocco ma ancora Selvaggia non torna Selvaggia si sveglia dal suo letargo a dicembre 2023 tutti ci svegliamo con quella notizia che recano in tutti i comunicati stampa delle testate giornalistiche che Chiara Ferranni Brand e Balocco hanno ricevuto una multa per pubblicità scorretta e ingannevole a Chiara Ferranni Brand è stata fatta una multa di un milione mentre a Balocco 420 mila perché ha aiutato nelle indagini e soprattutto perché dalle mail che sono spuntate durante questa inchiesta si evince come Balocco in realtà volesse essere trasparente sull'argomento e dire che effettivamente non sarebbe andata al ricavato del Pandoro che era stato aumentato da 3 euro a 9 euro per la ricerca ma che si sarebbe trattata di una donazione definita tant'è che Balocco voleva già fare la donazione prima ancora della collaborazione con Chiara che nasce solo per svecchiare il proprio brand e Chiara ha occhi per lei decide di aggiungere questa nota benefica a tutto sto messaggio del Pink Christmas del Pandoro per aumentare le vendite senza però aggiungere la parte che il ricavato o almeno parte del milione di cachet che è andato a Chiara Ferragni andasse in beneficenza lì si voleva tenere tutto occhi per lei tutti aspettavano la risposta di Chiara a quel punto l'Agicom ha reso pubblico non solo la sanzione ma proprio tutto il verbale quindi sappiamo anche delle mail che si erano scambiate in cui si evince chiaramente che è stato il team di Chiara Ferragni a voler mettere questa nota a dire che era tutto fatto come operazione benefica tant'è che ci sono delle mail interne di Balocco che ridono pure dicendo che in realtà l'aumento del prezzo del Pandoro serviva semplicemente a coprire l'assurdo cachè che aveva richiesto l'influencer Chiara spunta dopo qualche ora con un messaggio con una storia scritta dicendo che le dispiaceva tanto questa situazione che comunque lei aveva sempre donato aveva sempre fatto beneficenza in maniera corretta e che non stava capendo quello che stava succedendo fondamentalmente vi lascio quel messaggio e alla fine dice che lei si rivolgerà nelle sedi opportune il Codacons a questo punto impazzisce apre delle inchieste in 104 procure che poi vengono tutte riunite sotto la procura di Milano contro altre attività benefiche e commerciali di Chiara Ferragni il partito di Giorgia Meloni presidente del Consiglio dei Ministri fa una riunione di partito dove si congratulano per gli obiettivi che hanno raggiunto quell'anno obiettivi efimeri in realtà tra cui è quello appunto di aver creato l'Icea Made in Italy per promuovere la creazione di prodotti non la creazione contro la creazione di contenuti quindi in pratica insultando Chiara Ferragni e chiunque facesse faccia il content creator l'influencer mentre bisognerebbe prediligere solo chi crea i prodotti far ridere perché Chiara Ferragni effettivamente ha un suo brand che produce in Italia e già lì vabbè si commenta solo il governo non voglio entrare nell'argomento politico perché non mi sembra il caso opportuno però ecco in generale è un governo che come al solito fa ok Fedez fa delle storie come al solito che non difende dove in realtà non difende la moglie o meglio ci prova ma con un risultato catastrofico praticamente l'unica cosa che fa Fedez è fare specchio riflesso se non mi vedi sei nel cesso dove in pratica dice eh sì è vero Chiara si è comportata male sappiate che però mia moglie è responsabile di tutte le situazioni è indipendente io non c'entro niente con quello che fa lei ma ricordatevi che anche voi in seno al governo avete chi ha fatto più o meno la stessa cosa maturità più 30 in tutto questo si aprono come vi ho detto nuove inchieste perché vengono messe in discussione anche le altre attività benefiche come l'uovo di Pasqua che doveva andare a un'associazione per l'autismo mentre l'altro quello della bambola Trudi che doveva andare a un'associazione americana contro il bullismo il cyberbullismo che anche lì ti dico perché non un'associazione italiana Chiara il problema di Chiara fondamentalmente è che le è andato tutto bene finché ha messo i glitter rosa lei la polvere la polvere del pandoro la doveva fare glitterata perché tutti saremmo stati acceccati dalla polvere ci saremmo dimenticati di tutto il resto questo secondo me è stato sto scherzando chiaramente Chiara comunque in quelle settimane sparisce non si sa più dove sia c'è chi la cerca su chi l'ha visto c'è chi chiama direttamente la schiaparelli e le chiede dove sia Chiara Ferragni c'è uno stuolo di fotografi sotto casa Chiara non esce di casa si sarà persa nel nuovo appartamento costruito nel nuovo attico che si sono comprati Fedez è Chiara oppure si sarà persa nella nuova casa sul lago non si sa Chiara comunque pensiamo sia persa nella cabina armadio ma neanche Fedez la trova più fotografi sperano di trovarla giù che porta il cane ma il cane praticamente lo appendono come Simba del re leone dal terrazzo per pisciare sopra i fotografi scusate luna di notte sono un po' confuso pure io la prima volta che si vede di nuovo Chiara Ferragni nelle storie è a Capodanno dove lei vestita di rosso chiaramente per festeggiare l'anno nuovo è a casa quindi rinunciando a una festa molto più glamour e festeggia con pochi amici intimi l'anno nuovo poi Chiara sparisce di nuovo si spunta qualche tempo dopo vicino a un palazzo di una nota divorzista italiana cosa succede qui si inizia a vociferare della rottura del rapporto tra Chiara e Fedez i due non sono più insieme arriva il compleanno del padre di Fedez Fedez partecipa al compleanno senza i figli perché i figli sono con Chiara e la famiglia di Chiara a Portofino Chiara e in questo momento ha limitato i commenti sotto i suoi post perché erano diventati fonti d'odio terribili quel meme pensati libera era diventato una scusa per insultarla ogni cosa c'era un meme come pensati paracula pensati multata qualsiasi cosa anche insulti ben peggiori in realtà sono stati diretti a Chiara Chiara a quel punto fa la cosa che tutti temevamo facesse il video scuse Chiara appare sfatta magra con gli occhi evidentemente gonfi di lacrime i capelli sporchi Chiara finalmente è una di noi per la prima volta nella sua vita Chiara sembra la tipa che incontro a comprare l'avocado al Carrefour Express Chiara indossa una tuta grigia che è una tuta che costa comunque 600 euro perché si relatable ma fino a un certo punto sotto i 500 o no e fa questo messaggio di scuse che in alcuni punti dice cosa è giusta dice che infatti donerà per scusarsi un milione di euro all'ospedale come avrebbe dovuto fare dall'inizio e che qualora la multa venisse diminuita o tolta lei darà tutta la differenza quindi tutto quello che avrebbe dovuto dare alla multa lo darà all'ospedale l'ospedale conferma che ha già ricevuto un milione di euro da Chiara Ferragni Chiara dice anche delle cose in questo messaggio che sono un po' così lasciano un po' pensare in pratica si ammette la colpa ma dice anche che è stato un errore di comunicazione ora gioia mia qual'errore di comunicazione cioè sono uscite le mail Vanna Marchi stessa e Stefania Nobile vengono intercettate lì si chiede che cosa pensino sul caso perché molti chiamano Chiara Ferragni la nuova Vanna Marchi e Stefania Nobile e Vanna Marchi dicono che assolutamente non c'entrano nulla che loro è vero avevano truffato ma non avevano mai usato la scusa della beneficenza o si erano mai avvantaggiati dalla malattia dei bambini e questo è vero in tutto questo il governo che è ben impegnato su cose importanti per la situazione italiana decide di fare il famoso DDL Ferragni un decreto legge che va a contrastare ancora di più delle attività illecite come quelle che possono essere quelle del Pandoro quindi far far note ancora di più quando un influencer fa delle attività benefiche oppure delle attività commerciali con un brand il DDL è lacunoso non è niente di nuovo ma la cosa importante è che lo vorrebbero chiamare o comunque viene conosciuto come DDL Ferragni questo è importante perché avrebbe potuto consacrare Chiara Ferragni al ruolo di regina cattiva che sfrutta i bambini per un proprio tornaconto per tutti i secoli a venire perché chiaramente una volta che è nel codice penale li rimane a meno che non venga emendato Chiara Ferragni a questo punto riprende un attimo di attività cerebrale e si congratula con il governo Chiara Ferragni è di nuovo padrona della narrativa e congratulandosi è come se dicesse sì è vero io ho commesso un errore ma grazie al mio errore voi potete migliorare la situazione e impedire che questa venga di nuovo commessa Chiara Ferragni da regina cattiva che sfrutta i bambini in questo caso diventa eroina caduta che si pente diventa migliore attraverso il suo errore una narrativa molto forte è Chiara forse è stata l'unica cosa di senso compiuto che ha fatto in questo periodo perché poi fondamentalmente oltre a dire che chiaramente non può parlarne perché l'atto è in questo momento sotto inchiesta non si sa se hanno notizie non si sa ancora se si arriverà in tribunale effettivamente il caso è diventato più grave infatti ora Chiara e il suo team e Alessandra Balocco sono sotto inchiesta per truffa aggravata che è un reato che prevede anche la carcerazione quindi non va a zecole e chiaramente non può parlare di queste cose Chiara spera che la giustizia faccia il suo corso e di questo saremo testimoni al momento non lo sappiamo sappiamo appunto che però lei e Fedez a quanto pare non stanno più insieme lo sappiamo perché appunto i due non si vedono più insieme lei in maniera delicata aveva piazzato una storia della sua mano sinistra senza la Fedex io vi giuro ho aspettato due ore di registrato per poter fare questa battuta ok quindi lasciatemi un attimo il mio momento Fedez nel frattempo è stato visto con una rampolla della Milano Bene in atteggiamenti un po' intimi mettiamola così e comunque stanno facendo vite separate lui si è trasferito in un'altra casa lei non si sa dove sia ve l'ho detto lei comunque ha riniziato la sua attività sui social un po' sottotono mettendo nel nuovo i suoi guys il suo fit check non sta facendo adv per il momento parla solo del suo brand che è l'unica cosa che può fare attualmente però ecco il destino di Chiara Ferrani sembra segnato sembra davvero la caduta della prima influencer sembra davvero la caduta di un mostro di un grande pilastro dell'influencing questa storia ci insegna tanto sicuramente e sono curioso di finire di leggere il libro di Salvaggio Lucarelli per avere ancora più informazioni e per farvi una seconda parte di questo video ho tanto da pensare ho pensato tanto è è terribile l'idea di poter avvantaggiarsi a livello economico usando la sofferenza di altri che hanno creduto in quel progetto perché le persone chiaramente si erano emozionate per per quel progetto perché pensavano che con quei soldi avrebbero potuto trovare una cura delle malattie orrende è deplorevole e sinceramente non merita neanche di essere giustificato in alcun modo bisognerebbe semplicemente ammettere le proprie colpi e accettare qualunque cosa ne venga di seguito detto questo io non giustifico comunque l'odio verso Chiara Ferragni perché è una figura perché comunque è una persona che può sbagliare che ha sbagliato e che pagherà però Chiara Ferragni è una donna è una madre e i figli un giorno verranno esposti a questa cosa e gli si chiederà in qualche modo di pagare per gli errori della madre io lo trovo trovo altrettanto deplorevole il video finisce qua questa prima parte la prossima settimana uscirà la parte 2 dove amplieremo ancora di più quest'ultima parte che comunque volevo essere incentrata sulla biografia e sul brand make up di Chiara e chiaramente parlandovi anche di questo dramma perché se no non sarebbe stato completo però ecco questo voleva essere il mio video io sono curioso di sapere cosa ne pensate voi lasciate un commento facendomi sapere cosa ne pensate complimenti se siete arrivati fino a qui soprattutto avete la mia più grande ammirazione non so neanche se ci arriverò io fino a questo punto io sono davvero grato per ogni messaggio commento like che lasciate mi scalda davvero il cuore ma fino alla prossima volta Angeli come diciamo sempre be safe be cool and be you ciao Angeli e ora vado a mangiarmi un po' di pandoro a mangiarmi